La crisi economica dell'ITR sta provocando conseguenze anche sulle posizioni assicurative e previdenziali dei suoi dipendenti. L'allarme parte da una comunicazione fatta da Previ Moda ai suoi associati. L'istituto assicurativo che gestisce e investe le trattenute del TFR dei lavoratori del settore tessile ha inviato una comunicazione ai suoi iscritti dell'ITR, comunicando che l'azienda non ha versato le trattenute relativi al secondo trimestre, per cui Previ Moda non potrà né accumularle né investirle per valorizzarle e trasferirle al lavoratore alla fine del suo rapporto lavorativo. In sostanza i lavoratori TR che a suo tempo optarono per il versamento del TFR a Previ Moda ora rischiano di perdere anche la buon'uscita alla fine del rapporto di lavoro. Rischio che non corrono quelli che sono rimasti con l'Inps perché qui interviene il fondo di garanzia previsto dalla legge. Insomma dopo la crisi la cassa integrazione ha anche la beffa di perdere il TFR. Davvero un triste destino quello dei dipendenti TR. Sul fronte aziendale intanto tutta l'attenzione è rivolta al Tribunale di Isernia e alle decisioni che prenderà la sezione fallimentare in Camera di Consiglio. Teoricamente non dovrebbero esserci ostacoli alla concessione della proroga che va da un minimo di 45 a un massimo di 60 giorni. Tutti col feato sospeso in attesa delle decisioni dei giudici. Sull'altro fronte quello delle trattative col nuovo socio, l'indiano Tafkaint, si è appreso che quest'ultimo si trova a Hong Kong dove sta perfezionando la questione finanziaria. Infatti il suo ingresso dovrebbe coincidere con il versamento di 5 milioni freschi nelle casse dell'ITR. Il rappresentante italiano di Tafk, chiamato a gestire l'accordo con Bianchi e Petrollini, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere Bruno Falasca, ex dirigente regionale, docente universitario a Pesaro Urbino, personaggio conosciutissimo a Isernia, dove ha diretto anche la formazione professionale della regione molise.